ciao max o gian è un po che non ci vediamo è un po sì però noi qua stiamo facendo le maniche con un marchetto top secret la morì segreti un nuovo brand non possiamo dire niente valentina fai vedere questo interno taglia poi mettiamo l'etichetta la valentina la prende bianca mettiamo quella del brand 15 secondi 160 gradi temperatura ad una pressione di 45 abbiamo fatto un'applicazione qua non ve la possiamo svelare in tutto e per tutto perché è un brevetto che abbiamo fatto noi qui dalla max devil e quindi questo è il nuovo progetto max segreto non si può dire nuovissimo nuovissimo ma l'hai disegnato tu questo no questo arriva dai piani alti però molto in alto guardate le fate vedere un sacco qua di magliette magliette felpe tutte colorate mamma mia quando arriveranno nei negozi online max david c'è